Sindaco Alessandrini, appena terminata la riunione con i dirigenti del Pescara, i dirigenti della Lega di Serie B, per quanto riguarda il progetto stadio adriatico, cosa è uscito fuori? Vi è ovviamente un punto di vista differente da parte della sovrintendenza, questo punto di vista differente significa naturalmente cercare di far emergere le nostre ragioni in sede giurisdizionale, quindi ci attiveremo nei tempi per spiegare ricorso e poi c'è l'idea comunque che questo progetto, che al momento non è neanche un progetto e un concept, possa essere modulato per venire incontro alle esigenze di tutela storico-architettonica che sono state poste, però è chiaro che se il tema è l'intero stadio sarà un po' più difficile trovare una mediazione. Riteniamo appunto che si debba proseguire su questa via perché è un'operazione che finisce per alleggerire le finanze comunali, che non sono più in grado di gestire uno stadio, costa un milione all'anno, significa far scattare un'operazione che vale almeno 40 milioni di euro, con evidenti riflessi sull'economia cittadina, significa creare posti di lavoro, significa dotare quell'area di Pescara di mille posti auto e significa soprattutto, non dimentichiamo, perché rappresenta la condizione sine qua non per questa operazione, realizzare un nuovo stadio per l'atletica che significa anche riqualificare un'ulteriore porzione di città. Questo è l'interesse pubblico e su questa via vogliamo proseguire. Presidente Sebastiani, riunione con i tecnici della Lega per la vicenda stadio, cosa è emerso? Voi siete determinati comunque con il Comune ad andare avanti? Sicuramente rilavoreremo il progetto e presenteremo il nostro preliminare di progetto, perché il tutto si è arenato su un vincolo, su qualcosa che ancora non è presentato, quindi prendiamo atto del fatto che la sovrintendenza ha inserito questo vincolo, soprattutto per Piccinato, però lavoreremo per cercare di trovare una soluzione. Il Sindaco ha parlato di un ricorso che verrà fatto ad un organo terzo, questo potrebbe però portare ad un allungamento dei tempi? No, quel ricorso è una cosa, la presentazione del progetto non è un'altra, quindi noi andremo avanti con l'iter che ci eravamo dati, con i tempi che ci eravamo dati e sicuramente qualche giorno in più verrà preso, però poi approfondiremo eventualmente con una conferenza di servizio, perché sono i problemi e se si possono superare, è chiaro che non è che bisogna farlo per forza lo stadio, o soprattutto non è che bisogna farlo per forza nello stadio triatico.